Nata in Germania nel 1976, cresciuta a Londra e adottata dalla Francia, Diane Haidt Kruger, conosciuta come Kruger, è una modella e attrice nota anche per fascino, bellezza e sobrietà. Danza fin dall'età di tre anni si trasferisce a Londra per studiare al Royal Ballet, ma un infortunio la farà tornare in Germania. A 15 anni vince il concorso Look of the Year e dopo numerosi set fotografici si decide a studiare recitazione trasferendosi in Francia. Si fa notare sui set francesi e così arriva la chiamata di Hollywood. Sarà lei Elena, la donna più bella del mondo in Troy, accanto a Brad Pitt e Orlando Bloom. Anche se girato prima, dopo Troy escono il mistero dei Templari e il sequel, il mistero delle pagine perdute. Intanto continua a dividersi tra set francesi e americani, lavorando in thriller, commedie, film di fantascienza e di grandi registi come Agneska Holland, Billy August e Quentin Tarantino, che la chiama per Bastardi Senza Gloria. Sul set di Money Doll si innamora del regista e attore Guillaume Canet, che sposa nel 2001. Si separano nel 2006, ma rimangono amici e continuano a lavorare insieme. Da allora ha una relazione stabile con Joshua Jackson, l'ex Pacey di Dawson Creek. Portata per le lingue, parla fluentemente tedesco, inglese, francese e ha studiato russo per il film Triplo Inganno. È anche impegnata nel sociale e supporta le attività dell'Unicef. Il 10 luglio arriva in Italia la seconda stagione di The Bridge, in cui riprende il ruolo della ligia poliziotta affetta dalla sindrome di Asperger, Sonia Cross. Intanto ha appena finito di girare Fathers and Daughters, il nuovo film americano di Gabriele Muccino.